Giorni densi di dichiarazioni sulla politica sanitaria regionale in attesa della visita del ministro Fazio in programma domani a Chieti. Apporre un freno all'assessore regionale Mauro Febbo che difende l'operato in materia della giunta e del commissario ad acta, precisando in particolare che i ritardi nell'attuazione del piano di riordino sono causati dai continui ricorsi alla magistratura. Per quanto riguarda il policlinico di Chieti, il governo regionale, dice Febbo, è consapevole dei problemi che lo affliggono, fra i quali quello delle barelle. Per questo motivo l'obiettivo è trasformare in centri di eccellenza ospedali come quelli di Ortone e Atessa e portare nei presidi di Guardia Grele, Casoli e Gissi, la RSA è una parte della diagnostica strumentale. E poi aggiunge Vorrei che su Lanciano, l'amministrazione comunale e soprattutto i lancianisi riflettessero sulla grande occasione che hanno di avere un nuovo ospedale di eccellenza, un ospedale che qualcuno rischia di perdere solamente per uno scontro politico che non porta da nessuna parte. Io spero e mi auguro che la nuova amministrazione, che il sindaco Pupillo, soprattutto con la sua capacità professionale, riesca a ricevere e superare quelli che sono gli steccati politici per affrontare serenamente questo problema. La critica arriva da chi si è battuto per difendere dalla chiusura l'ospedale di Casoli. Il sindaco di Gesso Palena, Antonio Inaurato, scrive con ironia in una nota, bravo il ministro Fazio che viene a festeggiare la sanità chietina nei giorni dei morti. È proprio un passaggio epico mai nella storia di questa regione, soprattutto nel territorio del Chietino, sul fronte della sanità era stato raggiunto un tale livello di povertà e deprivazione. Mai, continua il presidente della comunità montana Ventino, le nostre popolazioni erano state così mortificate e beffate da scelte oltraggiose che hanno sacrificato sul misero fronte di un risparmio modesto i servizi essenziali in un'area ad altissima densità di popolazione anziana. I cittadini dei territori montani non hanno più nulla, continua Inaurato, non hanno più la lungodegenza, importantissima per malati cronici come gli anziani, non hanno più la riabilitazione, così che ora sono costretti a rivolgersi alle strutture private dell'area metropolitana, non hanno più la possibilità di sottoporsi a breve distanza da casa ai piccoli interventi chirurgici che era possibile risolvere in giornata. Le attività e posti letto che erano a casoli non sono stati trasferiti altrove, semplicemente non esistono più. E lo sanno bene i malati, prosegue il sindaco di Gesso Palena, che spesso vengono palleggiati da un ospedale all'altro perché capitano giornate in cui tutta la provincia di Chieti non c'è un solo pastoletto. Ne sono stati mai attivati, lamenta infine il sindaco, quei servizi territoriali necessari per dare almeno una parvenza di assistenza a un'area che non ha più nulla. E infine l'invito, venisse qui da noi il ministro Fazio a celebrare i grandi risultati, gli faremo vedere che siamo diventati virtuosi al punto da fare completamente a meno dei servizi essenziali e questo è davvero un bel risultato da celebrare non a caso, conclude Inaurato, nei giorni dei morti. Grazie.